Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord, apriamo il nostro spazio informativo con una duplice intervista realizzata con il segretario federale della Lega Nord e il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni che abbiamo sentito sui principali temi dell'attualità politica e le polemiche relative. Con Letta vi siete sentiti da Spuio a rischio? No, non credo, non ho capito questa uscita di Letta sull'Expo, l'ho chiamato ieri per dirgli, ci siamo parlati, mi sembra tutto rientrato da parte sua. È stata una scivolata, anche a lui capita. Un avvertimento mafioso come hanno detto qualche dei ghissi? No, una scivolata, anche se uno che sta attento a queste cose anche a lui è capitata la scivolata. Ieri dopo il federale abbiamo letto il comunicato della Lega Nord, si torna la Lega che cavalca l'immigrazione per i voti? Abbiamo fatto la segreteria politica, non il federale, abbiamo preso, fatto valutazione, abbiamo deciso di organizzare questo evento il 7 di settembre a Torino sulla legalità e sul tema dell'immigrazione che è un tema centrale. Ma l'aveste organizzato indipendentemente dall'uscita di Calderoni? Ma che domande sono queste? L'abbiamo organizzato, punto. Voi fate troppi retromensieri. Lei che è stato il Ministro dell'Interno, ha chiamato, lo conosce bene, se essi dovesse non scoprire le responsabilità sull'immigrazione, secondo lei dovrebbe rimettere? Io non faccio valutazioni, dico solo dal Ministro dell'Interno, da ex Ministro dell'Interno che i casi del genere erano sempre gestiti dalla struttura con il coinvolgimento di tutti e anche ovviamente del Ministro, quindi sono curioso di sapere e di capire cosa è successo perché mi pare che il Governo abbia detto che non era informato. Mi pare difficile che un'operazione così complessa, così rapida e così spettacolare sia stata fatta senza che il Governo fosse informato. Io penso che il Governo sapesse e abbiamo chiesto informazioni anche su questo atteggiamento del Ministero degli Esteri, di questi funzionali del Ministero degli Esteri che avrebbero detto di non sapere dello status diplomatico, di protezione diplomatica della Signora. Ecco, ci sono tanti misteri che vanno chiariti ma penso che in questi giorni saranno chiariti. Mi auguro che siano chiariti perché da cittadino pensare di vivere in uno Stato dove qualcuno può venire a prenderti e portarti via senza che i responsabili sappiano alcun che mi preoccupa molto. Sulla manifestazione indetta dalla Lega per il 7 settembre, vi sembra un momento opportuno per indire una manifestazione? Che domanda è? Non ho capito. Ma ci sono le polemiche montate sui giornali. Il tema c'è, il tema della sicurezza c'è, il tema della sicurezza nelle città c'è come purtroppo dimostrano fatti di cronaca di violenza gravissima successi in tutti questi mesi. Il tema c'è, io l'avevo sviluppato dal Ministro dell'Interno, poi si è persa traccia di queste iniziative. Il tema c'è, il tema del contrasto all'immigrazione clandestina c'è, visti gli sbarchi che continuano a susseguirsi. Il tema del come regolamentare la cittadinanza c'è, visto l'insistenza con cui il governo e non solo il governo parla di cittadinanza subito, ius soli, e sono tutti temi di stretta attualità che hanno un impatto diretto sulla sicurezza dei cittadini, quindi è assolutamente utile fare un appunto su questo tema e noi lo faremo il 7 di settembre, è assolutamente opportuno e utile. Ius soli assolutamente no in nessuna forma? Siamo nettamente contrari, l'abbiamo sempre detto, anche il Ministro Chienghe adesso ci sta ripensando perché ha detto ius soli temperato, cioè non più come diceva prima chi nasce in Italia avrà la cittadinanza automatica ma qualche cosa del genere. Noi siamo contrari, riteniamo che la normativa che c'è adesso sia quella giusta, cioè ius sanguinis con un periodo di 10 anni per ottenere la cittadinanza in modo tale che uno dimostri in 10 anni può ampiamente dimostrare di rispettare le nostre regole, di essersi integrato e allora merita la cittadinanza. Secondo noi questa legge non va cambiata.